Elena, per te l'auto ideale è come dell'essere. Prima di tutto sicura e poi deve rappresentare il massimo del comfort. Io la desidero così. E io esaudisco i vostri desideri, piacere, sono il genio. Il vero genio della lampada. No, la lampada mi si è bruciata, ora sono il genio della macchina. Sfrego la chiave e vai con il massimo del comfort. Che macchina, genio! È bell'anno di fantastica, da mille e una notte, è comoda come un superattico, è, è... E si trova in Picasso una vera 5 posti che con un buon rapporto, altezza, grandezza, non sacrifica nessuno dei passeggeri. Sedili posteriori individuali della stessa misura, tutti regolabili in lunghezza e inclinazione, ribaltabili a portafogli ed estraibili per aumentare il carico posteriore se necessario. Grande, ci stiamo dentro noi tre, tutti regali di Natale, più l'albero presepe. Il sedile del conducente è dotato di regolazione lombare per aumentare il comfort durante la guida, al pari di una vera berlina. Citroen Picasso, grazie al servo sterto di assistenza variabile, facilissima da guidare. E il comfort continua, con climatizzatore, parabrezza, termico riflettente e la console centrale che permette di avere la leva del cambio e tutti i comandi principali ben integrati. E quanto costa sta macchina? A dicembre Citroen gli offre prezzi più bassi dell'anno. Citroen Picasso a partire da 12.990 euro, solo 25 milioni, anche con immatricolazione 2004. Oh, il prese è invitante, l'auto pure. Partiamo! Grazie a tutti!